Buongiorno a tutti, oggi è domenica 15 novembre, ascoltiamo il Vangelo secondo Matteo capitolo 25, versetti dal 14 al 30. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli questa parabola, avverrà come un uomo che partendo per un viaggio chiamò i suoi servi e consegnò loro i suoi beni. A uno diede cinque talenti, a un altro due, a un altro uno, secondo le capacità di ciascuno, poi partì. Subito colui che aveva ricevuto cinque talenti andò a impiegarli, ne guadagnò altri cinque, così anche quello che ne aveva ricevuti due ne guadagnò altri due. Colui invece che aveva ricevuto un solo talento andò a fare una buca nel terreno e vi nascose il denaro del suo padrone. Dopo molto tempo il padrone di quei servi tornò e volle regolare i conti con loro. Si presentò colui che aveva ricevuto cinque talenti e ne portò altri cinque dicendo Signore, mi hai consegnato cinque talenti, ecco, ne ho guadagnati altri cinque. Bene, servo buono e fedele, gli disse il suo padrone. Se è stato fedele nel poco ti darò potere sul molto. Prendi parte alla gioia del tuo padrone. Si presentò infine anche colui che aveva ricevuto un solo talento e disse Signore, so che sei un uomo duro, che mieti dove non hai seminato, raccogli dove non hai sparso. Ho avuto paura e sono andato a nascondere il tuo talento sottoterra. Ecco ciò che è tuo. Il padrone gli rispose Servo malvagio e pigro, tu sapevi che mieto dove non ho seminato e raccolgo dove non ho sparso. Avresti dovuto affidare il mio denaro ai banchieri e così ritornando avrei ritirato il mio con l'interesse. Toglieteli dunque il talento e datelo a chi ha i dieci talenti, perché a chiunque ha verrà dato e sarà nell'abbondanza, ma a chi non ha verrà tolto anche quello che ha. E il servo inutile, gettatelo fuori nelle tenebre, là sarà pianto e stridore di denti. Ecco, siamo nella trentatresima domenica del tempo ordinario, ormai verso la fine quindi dell'anno liturgico, tempo in cui la liturgia ci accompagna nella consapevolezza di ciò che ci sta avanti, dopo la fine, che è sempre un inizio. Oggi quindi siamo invitati a guardare alle realtà ultime con il giusto sguardo, quello della fede, della fiducia che poi diventa carità. La storia raccontata nella parabola è semplice. Un uomo parte per un viaggio, lascia i suoi beni a tre persone distinte, a uno dà cinque talenti, a un altro ne dà due, a un altro ne dà uno, a ognuno viene dato quindi qualcosa e è affidata anche la responsabilità di far fruttificare ciò che è stato donato. Però, mentre i primi due hanno messo a disposizione tutto il loro impegno, sono riusciti a restituire il doppio di quello che hanno ricevuto, il terzo, quello che aveva ricevuto un solo talento, poiché si trova a restituire il solo talento donato, riceve un giudizio severo. Comprendiamo allora che il segreto della felicità eterna, perché è di questo che si occupa la liturgia e ci vuole trasmettere proprio questo, in questo tempo, è proprio il donare ciò che abbiamo ricevuto, senza paura di perdere tutto e non essere in grado di restituire qualcosa. Per il Signore non esiste il fatto di essere in grado o non essere in grado. paradossalmente che si doni bene o si doni male per lui, la cosa più importante è dare, è donare, è che tutto diventi dono. Quindi il modo poi per donare bene è certo che ciascuno lo deve trovare in sé, a ciascuno di noi è dato non solo la responsabilità di far portare frutto, ma anche di donare nel miglior modo possibile, cioè bene, cioè stando bene, stando bene, nella gioia, nella libertà del cuore. Questo è importante perché in effetti i doni che riceviamo dal Signore ci servono per crescere, per progredire, ma insieme. Essi non sono dati secondo la logica del mondo che è accumulo, accomodamento, staticità, no. Dio ci affida dei doni perché comunicando agli altri i doni noi ci muoviamo e la grazia in noi si muove e tutti insieme cresciamo nella grazia, nell'amore. Il Signore desidera che i doni stessi che Lui ci ha dato diventano più grandi di noi. Lui vuole che questi si moltiplichino e che noi vediamo i frutti che escono fuori da questi doni. Egli ci ama così tanto che desidera farci vedere proprio come agisce la grazia, come fa nascere in noi, fuori di noi qualcosa, in chi incontriamo, in chi amiamo. Questa è la gioia, generare altro da sé. Ma sapendo nel cuore, e non è necessario che tutti lo sappiano, lo sappiamo noi, che quell'opera di carità, quella comunità, quel credente, quel prete, quella monaca, quella coppia di sposi felici, tutta questa bellezza che ci circonda, beh, porta qualcosa anche di te, di te e di me, del tuo donarti, del mio donarti, del tuo consumarti nel dono di Dio e nel mio consumarmi nel dono di Dio. Ma questa è l'opera di Dio stesso, di Dio Spirito Santo, che agisce proprio in questo modo, generando il dinamismo della gioia in tutti i credenti battezzati, che si spendono nell'amore degli altri, per gli altri e per Gesù. È Lui che ci spinge a questo, è Lui che realizza la nostra felicità, però è necessario che noi ci affidiamo alla sua dolce azione che ci rende sempre di più amabili. Allora oggi celebriamo questa domenica con la certezza che alla fine dei tempi la gioia abiterà il nostro cuore e questa sarà sempre più grande nella misura in cui diventiamo movimento di offerta di sé, di consumazione di sé, che ci rende tutti figli della luce, come delle fiaccole accese che ardono perché sempre di più questa umanità cresca insieme a noi nella fraternità, nella bellezza, nella pace, fino alla fine dei tempi. Buona domenica!